La Juventus ha sette vite, proprio come i gatti, ma voi li avete mai visti segnare allo stadium? Sono tornata qui per vedere Juventus e Siviglia! E questo è stato il benvenuto Va va, senti qua E anche oggi ho zecco l'abbigliamento domani Io con lo scamosciato sotto la pioggia e poi... E poi c'è lui Amico Ma non hai freddo, ha mani di corpe? Grazie a EA per avermi invitato e per avermi fatto provare tre o quattro infartini in una serata E come i tifosi del Siviglia hanno iniziato a farsi sentire Il Siviglia segna Qui il rigore non dato su rabbio, ma poi, alla fine, fino alla fine, i 44 gatti si mesero in fila per sei con il resto di due Gaia, a tutti i vedi 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 Grazie.